Radio S Music, music, music and sport, feel good Radio S Presidente Rondi, passato, presente e futuro, questa quinta edizione è allargata rispetto alle altre? Sì, però come ho detto la formula rimane tutto il cinema per tutti perché io ci tengo molto che chi viene qua possa trovare i grandi autori, gli autori emergenti posso trovare l'industria con il mercato e tutti gli scambi posso trovare il cinema per ragazzi, i documentari non c'è nulla che tratta il campo del cinema che noi lo dimentichiamo e naturalmente più mettiamo l'accento su queste sezioni e più naturalmente il festival si allarga perché ci sono sempre più occasioni da proporre senza dimenticare il passato perché io tengo molto a ricordare persone che ci hanno preceduto e che hanno lasciato un segno nell'oggi abbiamo citato Tognazzi ma posso sempre citare Kurosawa per il suo centenario posso citare il caro Fellini per la dolce vita e poi soprattutto Suso Cecchi D'Amico che abbiamo perso neanche un mese fa e che ha rappresentato nella storia del cinema italiano il modo di scrivere il cinema come nessuno è mai riuscito a raggiungere e che ha rappresentato nella storia del cinema